Una bellissima serata con il teatro gremitissimo per il metodo legnato salvo. Esatto, è l'obiettivo che ci siamo prefissi nel prossimo triennio di prestare molta attenzione ai nostri giovani cercando di creare un metodo calcistico che valga dalla scuola calcio alla prima squadra che abbiano il suo percorso logico per una crescita formativa sia dal punto di vista umano, sportivo e anche calcistico. E' stata una bellissima serata con partecipazione di pubblico e un'orecchia in grande forma. Grazie, l'obiettivo di questa serata era quello di presentare questo nuovo progetto che la società ha messo in atto da quest'anno e c'è stata un'ottima affluenza di pubblico e siamo contenti perché ci crediamo, crediamo nel lavorare con i giovani crediamo nel creare le premesse perché i ragazzi che vestono la maglia del legnago un domani possono vestire la maglia della prima squadra e perché no anche in categorie superiori. Quello che mi ha colpito di più questa sera è stato l'entusiasmo di orecchia verso questo progetto e questo metodo nel nuovo legnago. Io provengo dal settore giovanile perché sono nato nel settore giovanile, mi sono formato nel settore giovanile e quindi mi fa piacere che sia nato questo progetto che mi vedrà impegnato nell'aiutare gli allenatori del settore giovanile a dare il meglio di loro per fare in modo di far crescere nel migliore di modi ogni giocatore. Quindi l'entusiasmo è alla base, la motivazione è alla base e quindi se l'ho trasmesso mi fa molto piacere. Due parole anche su Luca Zanimacchia che è venuto qui a Regnago quasi sconosciuto e poi è approvato in Serie A. Il calcio riserva queste gradite sorprese e Luca credo che ci sia guadagnata questa possibilità grazie a chi l'ha portato all'Egnago, grazie alla società e al lavoro che lui ha fatto quotidianamente per migliorare. Poi si sa che nel calcio non c'è matematica e non ci sono cose codificate e quindi lui ha avuto questa possibilità. E noi proprio stasera abbiamo fatto vedere un filmato di Luca con i suoi due gol, uno di destra e uno di sinistra e abbiamo detto che ci aspichiamo e che da questo progetto nell'arco del tempo possono saltare fuori tanti Luca Zanimacchi.